Spieghi questi occhiali, cosa fanno sul tavolo? Ah, ecco, no, io ho portato con me gli occhiali dell'Europa, che li voglio anche indossare. No, lo spiego subito, nel senso che... Ne voglio un paio in mezzo. Io te li faccio avere, perché sono indispensabili gli occhiali dell'Europa. Vedete, noi siamo partiti da che cosa? Da Cesenatico, quindi dal territorio, dalla nostra casa, delle nostre città, dove noi viviamo queste grandi questioni, no? Cioè, dicevo, l'erosione delle spiagge, gli profughi sono negli alberghi a Cesenatico, nelle nostre comunità, però noi sappiamo che questi sono problemi mondiali, come abbiamo detto. Cioè, le soluzioni non le troviamo nei nostri territori. Quindi la paura, alla fine, la preoccupazione che vivono gli europei, che sono tutti più soli oggi, c'è un alimento di solitudine, e dipende proprio da questa paura di questi grandi cambiamenti, che non sappiamo come gestirli, come governarli, come unire sostanzialmente il locale col globale, cioè quello che noi viviamo tutti i giorni con le grandi trasformazioni mondiali. Ecco l'Europa. Cioè, noi abbiamo bisogno dell'Europa per unire, per capire che cosa sta succedendo a casa nostra e nel mondo e per cercare, è lo strumento minimo, per cercare delle soluzioni, perché da soli, ciascuno a casa propria, lo sappiamo, non andiamo da nessuna parte. Per cui, se uno non ha gli occhiali dell'Europa, nel mondo di oggi... E' miope. E' miope. E questi, fra l'altro, vi spiegano con un secondo, cioè hanno delle lenti progressive. Progressiste. Progressive. No, progressive. Progressive, nel senso che io quando me li metto, se guardo in basso, leggo il giornale, cioè vedo la mia realtà a Cesenatico nel territorio. Se alzo lo sguardo, vedo lontano. Cioè, vedo quello che succede nel mondo. Ecco, quindi l'Europa sono degli occhiali a lenti progressive. Grazie a tutti.